è arrivato il cava ricorda molto il prosecco è molto più leggero una bella bollicina leggermente meno carico di gusto rispetto a un prosecco però interessante perché sembrava quasi bardicato non è male buono ecco è arrivata la paella questa qua è una paella mista tra di pesce e di verdure quindi assaggiamo immediatamente partiamo da qua allora la cottura è perfetta ricorda molto un riso parboil solamente che è molto più piccolo questo qua all'interno ci sono dei peperoni pomodoro zafferano piselli vedo delle taccole dei peperoni rossi e verdi e come mare abbiamo va bene un gamberone uno scampo qualche cosa e poi anche pollo c'è anche del pollo dentro è una paella mista molto buona devo dire gustosa cotta bene interessante il riso è cotto a perfezione ci sono anche delle vongole sono anche delle vongole scusciate ma ci sono comunque il riso cotto alla perfezione è buona veramente molto buona volendo sulla paella si può mettere anche del limone assaggiamo con il limone fresco e devo dire che ci sta veramente molto bene perché gli dà una spinta in più di acidità e di gusto veramente molto molto buono allora questo qua è il pimento praticamente sarebbero i friggitelli nostri fritti eccellenti dolcissimi veramente buoni cotti bene tanta tanta roba calamaro all'andalusia calamaro fritto veramente alla perfezione gustosissimo buono ed è servito con questa maionese agrumata con del lime e un pizzichino d'aglio veramente molto molto buono tanta tanta roba annaffiato tutto con del buon cava brutto buono ricorda molto un prosecco delle belle bollicine intense interessante anche come gusto non un po' diciamo più leggero rispetto a un prosecco però buono veramente molto molto buono crema catalana bella cremosa è una crema pasticcera praticamente fatta con la panna gustosa ottima e poi sopra c'è lo zucchero di canna pensavo lo flambassero comunque lo caramelizzassero invece lo hanno lasciato così però buono però buono c'è chi va bene vorrei mani ma i Grazie a tutti. Grazie a tutti.